Catherine, principessa del Galles nata Catherine Elizabeth Middleton Reading. 9 gennaio 1982, è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell'erede al trono William, principe del Galles. È conosciuta anche con l'ipocoristico Kate, al quale tuttavia lei stessa preferisce il nome Catherine. Affranti per la sorte della loro amata futura regina consorte, i sudditi della Royal Family, hanno appreso con piacere che la donna continua a lavorare per loro nonostante la malattia che la affligge. Sul loro profilo Instagram, i due coniugi reali, hanno condiviso. Un video, per promuovere la salute mentale in occasione della settimana sulla sensibilizzazione su questa importante tematica. Nelle riprese la moglie del principe William, non appare mai così come non se ne sente nemmeno una voce. Stiamo parlando di una clip di 14 secondi, che sono uno spoiler del film realizzato appositamente per il suddetto evento. I sudditi si sono mostrati felici dell'attenzione dei loro futuri sovrani, a questo tema, che nelle campagne britanniche, sembrastia diventano un vero problema. Da sempre il principe e la principessa del Galles supportano quelle che sono le iniziative a sostegno della salute mentale considerandola tanto importante quanto quella fisica. Con questo gesto William e Kate sembrano voler dimostrare di volersi concentrare su altro. E non solo sulla malattia di Lady Middleton. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il tumore al colon che affligge la principessa del Galles sarebbe più grave di quello finora detto, e sarebbe derivato da un'infezione da papilloma virus. Per adesso non c'è niente di certo, ma la lotta della principessa al cancro continua, con il supporto di tutta la sua famiglia e amici.